oggi si torna a parlare di investimenti in miei investimenti il mio personale portafoglio vediamo in termini di capital gain di dividendi incassati e sono molto contento di dire che in termini di dividendi questo timestre che appena passato è andato alla grande poi da ottobre anche iniziato a usare lo strumento delle opzioni che mi ha dato anche tanto cash flow in più ma non andiamo di effetto piano piano ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io sono come sempre pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario IEF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare dove io ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da adebitato seriale ad investitore risparmiatore consapevole ed incallito avrei voluto fare questo video molto tempo fa ma comunque da gennaio 2023 la cosa cambierà perché sicuramente andò a farli con cadenza mensile anche perché se dovessi continuare a utilizzare lo strumento delle opzioni soprattutto con un aumento spero del capitale investito le operazioni di cui voglio portare alla vostra conoscenza saranno sicuramente in numero maggiore basta telegi versare partiamo più di tutto del crowdfunding come sapete ho iniziato a maggio a investire in prepay e dal primo video presentazione ho anche investito in un secondo progetto a fine maggio per un totale di 550 euro per entrambe i progetti il primo progetto è un progetto immobiliare con un ritorno previsto del 18 per cento il secondo invece è un app sulle farmacie con un ritorno previsto del 13 e mezzo per cento avevo intenzione di andare a investire altri in altri progetti ma purtroppo ho avuto alcuni problemini e non ho potuto aggiungere liquidità cosa che spero di contentizzare almeno nel fine dell'anno volevo farlo entro il passato trimestre ma non sono riuscito magari vi racconterò in un video a parte perché non sono riuscito cosa è successo passiamo al portafoglio azionario che per il secondo trimestre consecutivo è sceso perdendo circa un 6 per cento dal valore dell'ultimo aggiornamento che vi ho fatto portandosi a un valore da inizio anno del meno 16 per cento a cui però sono esclusi i rendimenti da dividendi e da opzioni meno pesanti le perdite rispetto a quelle che ho avuto all'inizio anno e comunque se devo essere sincero sempre meglio di quello che ha avuto il nasdaq l'esempio 500 del dow jones il mio scopo di non avere una volatilità eccessiva o comunque di non avere una volatilità che supera il mercato di riferimento che è quello statunitense e viene questa comunque mantenuta per quanto riguarda il mio portafoglio e gli incassi da dividendi e da opzioni beh quelli ci arriviamo adesso dividendi che come dicevo prima mi hanno soddisfatto parecchio questo trimestre ho incassato 328 euro conto i 183 circa del trimestre precedente e 153 di quello ancora prima il che mi apporta a un incremento del 44 per cento circa rispetto al secondo trimestre del 2022 e visto che anche in questo mese di ottobre ho già incassato fra dividendi e opzioni quasi 239 euro spero che l'ultimo trimestre dell'anno si vada a chiudere in bellezza per quanto invece riguarda il pack che sto facendo per il bimbo ma che comunque sono sempre miei soldi sono asset miei a mio nome nei quali ci metto il gettone tutti i mesi questo ha recuperato quasi quattro punti percentuali dall'ultimo trimestre dove era il negativo di quasi un meno 8 per cento mentre ora è comunque il negativo ma è arrivato un meno 3,75 per cento per poter operare in opzione dovuto chiudere alcune posizioni ma l'ho dovuto fare anche per un altro motivo che è quello che vi accennavo all'inizio che poi andrò a trattare in un video apposito fatto ad hoc questo seppure rischioso mi ha portato comunque benefici nel breve periodo devo essere umile bravo per far durare questi benefici anche nel lunghissimo periodo per cui imparare ancora di più a utilizzare le opzioni e a utilizzare per creare un cash flow mensile eccomi qui alla fine anche di questo aggiornamento dei miei investimenti di tutti i portafogli del terzo trimestre il 2022 ti ho dato una panoramica generale su quello che sono stati i miei investimenti azionari dei miei investimenti alternativi e del pack che sto portando avanti per il bimbo se il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo per cortesia di farmelo capire con un bel pollice in su sia per me ma anche per l'algoritmo di youtube perché mi fai crescere sulla piattaforma poi lasciami un commento e dammi le tue impressioni su quello che hai visto in questo video e per farmi capire se secondo te l'operatività che sto portando avanti è di interesse se poi sono sul canale ti chiedo per cortesia per non perderti nessun video successivo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che ogni nuovo video ti verrà notificato bene anche per oggi è tutto non mi resta solo chiederti arrivederci ad un prossimo video ciao a presto